Grazie, grazie davvero per questa manifestazione. Questo è il mio Veneto, il Veneto che accoglie. Questo è il mio mondo, il mondo che accoglie. Io sono Alessandra Dutto, sindaco del comune di Santo Stefano di Cadore, provincia di Belluno, confinante con l'Austria. Un comune di 2600 abitanti scarsi in montagna, montagna vera, montagna che simbolicamente evoca la chiusura, ma che io ho voluto trasformare in una terra di apertura e di accoglienza. Nel 2011, nel giro di poche ore, il mio comune ha accolto 90 profughi. Dico la verità, li ho accolti io contro tutti e tutti, contro anche la mia giunta. Di questi ragazzi, di questi 90 profughi, uno, Mubi, nato a Niamè in Niger, è diventato anche il mio quinto figlio. Sono passati degli anni, il mio comune, io sono stata, nonostante tutto, rieletta. Il mio comune è ad oggi un comune accogliente perché io sono convinta che un amministratore ha un'enorme responsabilità che va oltre il tappare i buchi e fare i marciapiedi. Ha la responsabilità verso i propri cittadini e verso i propri figli di insegnare in un certo senso la solidarietà, l'accoglienza, la condivisione, se vogliamo concretamente pensare ad un mondo migliore. Guai agli amministratori che sono diventati e stanno diventando seminatori di odio. Grazie a voi e buona vita a tutti voi.